Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino accanto alla porta d'ingresso del convento. Oggi qui per leggervi dal nostro libro delle testimonianze. Come vedete in sovrimpressione la mail che avete a disposizione per interagire con noi a raccontare la vostra testimonianza. Oggi vogliamo raccontarvi la testimonianza di Luigi, Luigi Ramadori di Porto Sant'Elpidio. Lui si firma a Luigi. Luigi ci racconta qualcosa che è stato ripreso anche dai Tg locali, anche lui dice dal Tg regionale. Cosa è successo nel 2018, il 22 di aprile. Una domenica piena di sole. Mio figlio Francesco era in località Bolognola, sull'appennino Umbro Marchigiano, proprio per una passeggiata tranquilla insieme al suo amico Ugo. Mentre stavano percorrendo un tranquillo sentiero a circa 1.400 metri di altezza, Francesco venne a mancare improvvisamente il terreno sotto i piedi, forse a causa di infiltrazioni dell'acqua, scrive Luigi. Gino perde l'equilibrio, scivola e cade. Comincia così a rotolare, questo proprio attraverso il racconto di Ugo, comincia a rotolare dalla testa ai piedi sulla parete di rocce e sassi per una lunghezza che all'incirca erano circa 180 metri fino ad arrivare poi in fondo. Ugo attonito ha visto tutto e ha cominciato a chiamare immediatamente i soccorsi. Racconta Luigino, Francesco era soltanto vestito di soli pantaloncini corti, scarpe da montagna. Poi quel giorno c'era tanto caldo. Lui scrive che una volta avvisato cade in una più grande disperazione e rivolge immediatamente una preghiera straziante a Padre Pio. Scrive lui ero disperato. Solo 45 minuti più tardi Francesco ad opera di due elicotteri del soccorso alpino di Pescara e dell'ambulanza dell'ospedale di Ancona è stato recuperato. Al pronto soccorso giungeva verso le 17.30 dopo essere stato sottoposto per tutto il giorno. Poi agli accertamenti venivano registrate soltanto alcune escoriazioni in varie parti del corpo senza alcun'altra importante lesione. Un miracolo, mio figlio è vivo.